Che tu sia un florovivaista, un trasportatore di piante e fiori, che tu abbia un garden center, un negozio, comunque che abbia a che fare con il mondo delle piante e dei fiori, avrai sicuramente la necessità di utilizzare il carrello. Il carrello DC è sicuramente lo strumento più utilizzato per la movimentazione di piante e fiori. L'organizzazione Orlandelli è leader nella formatura di questo tipo di carrello.